Il gruppo d'azione locale Nuovo Fior d'Olivi ha riaperto i bandi per finanziare il territorio nell'ambito del turismo sostenibile e responsabile. Le misure a disposizione delle imprese sono state presentate in diversi comuni dell'Interland-Barese dall'11 al 13 maggio. Dopo Terlizzi, Modugno e Giovinazzo, l'ultimo appuntamento si è tenuto a Bitonto, nella splendida cornice della Sala degli Specchi di Palazzo Gentile. La comunità del Galfior d'Olivi è estesa. Oltre i comuni in cui sono stati presentati questi nuovi bandi, ci sono Palo del Colle, Grumo Appula e Binetto. A loro va la maggiore ed equa attenzione all'insegna di un prospero sviluppo nell'ambito turistico. Sarà finanziata a ciascun comune una somma importante. In una prima fase verranno accreditati 100.000 euro, a seguire una somma pari a 150.000 euro. L'auspicio è che venga colta questa opportunità e che vengano realizzate importanti progettualità, tra l'apertura di Infopoint e la creazione di itinerari turistici naturali, a sostenibilità lenta e destagionalizzata, oltre che di reti tra operatori del settore, all'insegna dell'innovazione sociale. Attraverso questa opera, queste risorse che daremo ai comuni, ci vogliamo allineare un po' con il territorio, con il sistema Puglia innanzitutto, ma con il territorio nazionale, perché la sensibilità a questi itinerari oggi è consapevole nel pubblico turistico. Noi però non li abbiamo ancora. Se ne parla tanto degli itinerari della via Francigena, degli itinerari della via Traiana, noi la mapperemo in maniera da dare al turista la conoscenza del luogo. Attraverso questo nostro progetto metteremo il turista al centro del nostro territorio. Le misure previste dai bandi sono diverse. Ce ne ha parlato il vicepresidente del Galfiordolivi, Danilo Lolatte. Gli interventi si concentrano sostanzialmente su tre cardini fondamentali, creazione, rafforzamento e innovazione di quelli che sono i percorsi ed itinerari turistici e lo sviluppo di attività extraagricole. Noi riteniamo che attraverso importanti investimenti per oltre 2 milioni di euro, con le misure 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2, e con lo sviluppo delle misure e con le amministrazioni locali, possiamo generare una reale identità territoriale, sia in favore di soggetti privati che appunto degli enti pubblici. La sfida sarà anche quella di risollevare il territorio dalle conseguenze di due anni di pandemia del coronavirus. Gli esperti dicono che questo sia il momento giusto per puntare sul turismo. Il grande turismo vuol venire nelle piccole realtà, quindi abbiamo la fortuna che non è più quella meta di Venezia, Firenze, Roma, le grandi città, ma un turismo autentico, sostenibile, perché quando parliamo di sostenibilità è il nostro mercato, il mercato del prodotto, l'identità di un territorio. Quando parliamo di ruralità troviamo quell'aspetto autentico che per il turista è quel motivo per muoversi. Oggi, lo sappiamo tutti, che non si vende più una stanza d'albergo o un piatto di pasta, si vende un sistema territoriale. Anzi, per meglio dire, le sfide che abbiamo davanti non saranno più sfide fra prodotti o fra aziende, ma fra territori. Il turismo va visto come una forza trinante per l'economia locale e come un'opportunità che tutti dovrebbero cogliere, specialmente i giovani. Da Roma, intanto, ci sono buone notizie per il mondo rurale. Ce ne ha parlato l'onorevole Francesca Anna Ruggero, membro della Camera dei Deputati, sempre attenta alla crescita e al futuro della sua terra natia, Bitonto. Da Roma l'impegno sia con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia con tutte le norme che abbiamo approvato come Parlamento, siamo al fianco delle istituzioni e di tutti gli attori coinvolti nell'organizzare, strutturare, analizzare e programmare le risorse che sono state messe a disposizione. Questo per innovare, digitalizzare, all'insegna però sempre della cultura, della tradizione del nostro territorio, non dimenticando la sostenibilità sia dal punto di vista ambientale che come mobilità. Quindi finalmente abbracciare quella mobilità lenta che i nostri antenati avevano già scoperto tanti anni fa con il paesaggio che non smette mai di affascinarci ogni giorno. L'augurio dell'onorevole Ruggero per il mondo rurale è di restare uniti nella valorizzazione delle potenzialità del territorio. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno e all'estero ci viene apprezzato e viene stimato tantissimo. Quindi noi dobbiamo lavorare per avere una filiera sempre più corta nei nostri territori e saper vendere il nostro territorio e il nostro saper fare bene tutto all'estero per attrarre qui i turisti e gli imprenditori che vorranno investire. Nella promozione e valorizzazione e ripresa del settore turistico i comuni dovranno puntare ad essere una comunità accogliente. Sarà importante il supporto anche delle realtà del terzo settore. Sicuramente ci candideremo al bando del GAL per l'istituzione dell'Infopoint turistico all'interno del Comune di Pao del Colle perché riteniamo che sia uno strumento fondamentale per offrire quei servizi minimi e essenziali ai turisti che verranno sicuramente a trovarci. Abbiamo dati consuntivi, consolidati ormai sulle presenze del 2021 che ha segnato, nonostante tutte le difficoltà del Covid e della pandemia e alcuni periodi addirittura in cui le strutture sono state di fatto poi chiuse, abbiamo segnato il record di presenze nel Comune di Pao del Colle con circa 4.400 presenze nel territorio che per noi sono un dato sicuramente incoraggiante perché rappresentano il massimo dei risultati fino ad oggi raggiunti e ci spingono e ci invogliano ad investire ulteriormente risorse, attenzioni e impegno da parte dell'amministrazione. Il Comune di Binetto è un comune di appena 2.000 abitanti, un comune prettamente agricolo, tuttavia ha una peculiarità rispetto ad altri comuni del centro-sud e la presenza sul territorio dell'autodromo dell'Evante e rispetto ad altri comuni abbiamo la capacità di attrarre un flusso turistico abbastanza importante e lo stiamo riprendendo e lo abbiamo fatto anche durante il periodo Covid. Quindi il fulcro dell'attività comunale dell'ente è quella di compartecipare, quella di organizzarsi e valorizzare sempre più l'autodromo dell'Evante in maniera tale che il flusso turistico ad hoc sia canalizzato anche nel centro cittadino. Modugno è una città che soprattutto nell'anno appena trascorso, il 2021 e nell'inizio del 2022, ha proteso tutta la propria attività amministrativa ma anche associativa al recupero di una propria identità, soprattutto a fini turistici. Lo sta facendo attraverso una serie di iniziative a carattere culturale, sociale, che mirino soprattutto a recuperare il valore dei propri luoghi simbolo. Ad esempio il casale fortificato di Balsignano, il casale medievale, che soprattutto in quest'anno ha subito un incremento notevole di visite anche sfruttando ovviamente il vantaggio di essere situato lungo il Cammino Materano e la via Peuceta e certamente il gruppo di azione locale può essere con i propri strumenti anche di promozione del territorio una irripetibile occasione per valorizzare questi sentieri, questo territorio extraurbano, soprattutto a fini turistici.